Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial in collaborazione con Youplacraft. Quello che vi presento oggi è questo piccolo ricettario per i vostri dolci. L'idea dei dolci vi è venuta quando ho visto la presentazione di Youplacraft dei nuovi prodotti e mi sono piaciute tantissimo queste piccole decorazioni mi hanno portato il ricordo di biscotti allora ho pensato di creare questo è molto semplice voi potrete vederlo benissimo nel mio video tutorial ora ve lo faccio vedere ve lo illustro velocemente si apre in questo modo così e poi qui sempre ho messo delle decorazioni di Youpla aprite e trovate le cartelline che ho creato con delle piccole plastichine che avevo trovate tutte le vostre cartelline all'interno potete inserire le vostre ricette e poi magari anche perché no la foto del dolce poi fatto così da ricordarvi che cosa volete fare che cosa non volete fare all'interno potete metterci anche le ricette delle vostre nonne delle vostre zie io ne ho un bel po da inserire l'ho fatto con 10 fogli sempre nel video tutorial troverete l'elenco dei materiali e le misure che ho utilizzato per fare questo qui in particolare come potete vedere non è grandissimo così lo potete riporre tranquillamente nelle vostre dispense ora non mi resta altro che augurarvi una bella creazione e via andiamo subito a vedere il nostro video tutorial ciao 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 ciao